Aspetto. Questo è un cane di piccola taglia. Altezza algarrese 24-34 cm. Peso non inferiore a 8 kg e non superiore a 14 kg. La testa è grande, larga e quadrata. La pelle che lo ricopre forma pieghe quasi simmetriche. Il cranio è largo, quasi piatto tra le orecchie, la fronte è molto convessa. Le arcate sopraccigliari risaltano, separate da un solco, particolarmente profondo tra gli occhi. Il solco non deve continuare fino alla fronte. La protuberanza occipitale è poco sviluppata. Il passaggio dalla fronte al muso è fortemente pronunciato. Il muso è largo, molto corto, e ha sviluppato fughe. Le mascelle sono larghe, quadrate, potenti. Morso, prognatismo, cioè la mascella inferiore è più lunga di quella superiore. Gli occhi sono bassi, inseriti larghi e diritti, grandi, rotondi, leggermente sporgenti, scuri, con espressione vivace. Le orecchie sono di media lunghezza, larghe alla base e arrotondate alle punte, attaccate alte ma non troppo ravvicinate, in posizione eretta. Il collo è corto, senza pieghe della pelle sotto la gola, potente. Il torace è ampio, ha forma di botte, profondo. La coda è corta, attaccata bassa, spessa alla base, nodosa o spezzata dalla nascita, si assottiglia verso l'estremità. Il pelo è corto, folto, liscio e lucente. Il colore è tigrato, fulvo di varie sfumature, maculato. Spesso vengono individuati cani bianchi. Tratti caratteriali distintivi. Il tipo di comportamento è equilibrato, mobile. I cani sono coraggiosi, arguti, amichevoli con le persone. Il bulldog francese ha bisogno di un contatto umano costante. Se lasciati soli per più di qualche ora, possono provare ansia da separazione. Questo è più comune nei cuccioli, ma alcuni cani hanno un forte bisogno di contatto nell'età adulta. Questa ansia può portare a rosicchiare, rompere oggetti nella stanza e problemi con addestramento al bagno. I bulldog francesi sono spesso tenuti come cani da compagnia. I cani sono pazienti e gentili con i loro proprietari, vanno d'accordo anche con altri animali domestici, ma possono mostrare aggressività sullo sfondo della gelosia. I bulldog francesi sono orientati alle persone, e hanno una buona comprensione di loro. Questa abilità aiuta nell'apprendimento e nella formazione. Possono anche partecipare a sport di squadra, agiliti, freestile cinofilo. I bulldog francesi sono classificati al centonovesimo posto in T'Intelligence of Hostie Stanley Coren. Ci sono alcune eccezioni a questa intelligenza canina media, si diceva che la Boredogue Francais di nome Principessa Giacqueline, morta nel 1934, fosse in grado di pronunciare venti parole in situazioni adatte. Una razza di cani guida usati come cacciatori di topi e battitori di bestiame. Allevato incrociando bulldog inglesi con terrier francesi. Al giorno d'oggi, i bulldog sono popolari come compagni e animali domestici. Socievole, non aggressivo, la dimensione della natura irrequieta consente loro di essere tenuti anche in piccoli appartamenti. Non richiedono molto sforzo fisico. Punti salienti e fatti interessanti. È abbastanza noto che uno degli antenati del bulldog francese, non a caso, è il bulldog inglese, molto probabilmente una delle varianti di razza giocattolo. Originariamente chiamato Francis Bulldog, anche se in seguito gli inglesi ridicolizzarono l'idea di dare un nome francese a un cane inglese. Due segni distintivi del bulldog francese sono le orecchie da pipistrello, e un cranio semi-piatto e semi-concavo. Se non fosse stato per le obiezioni degli amanti della razza americana, l'orecchio del pipistrello bulldog francese avrebbe potuto essere rimosso dalla razza e sostituito con un orecchio a rosa. Sebbene i bulldog francesi siano allevati principalmente come animali domestici e compagni, sono sorprendentemente intelligenti e fungono da buoni cani da guardia. Storia della razza. Si ritiene che l'antenato del bulldog francese sia il bulldog inglese, ma i francesi hanno un'origine molto più complessa. Tra gli antenati nello standard ci sono gli alani medievali, bulldog spagnoli, ora estinti. Nell'aspetto del bulldog francese, molto è ereditato dal bulldog inglese, specialmente nella struttura del corpo. A metà del XIX secolo, in Inghilterra iniziò la rivoluzione industriale, che portò a una massiccia migrazione di lavoratori qualificati nel continente, in particolare in Francia. Insieme a loro, piccoli bulldog, bulldog giocattolo, fino a 12 libri di peso, arrivarono in Francia. L'incrocio del burgo sul dog con i toy bulldog portati dall'Inghilterra, forse anche con terriere Carlini, ha portato alla creazione di una nuova razza. Alla fine del XIX secolo, il bulldog francese aveva già acquisito un certo tipo esterno e iniziò a rivendicare il titolo di razza indipendente. I suoi primi proprietari erano operai, poi divenne popolare tra le prostitute, che si guadagnò una notorietà. Tuttavia, già alla fine del XIX secolo, la nuova razza ha guadagnato popolarità tra artisti, pittori e aristocrazia. Nel 1870 fu creato in Francia un club di amanti del bulldog francese, e nel 1903 si tenne la prima mostra, in cui il bulldog franca esapparve come una razza indipendente, e non nello stesso rinconi bulldog giocattolo, come era prima. 51 cani hanno partecipato allo spettacolo. I primi francesi arrivarono in Inghilterra nel 1893, ma non si diffusero. Alla fine del 1904, l'English Kennell Club iconobbe la razza come razza indipendente. Nel 1995, la FCI ha modificato lo standard e ha approvato un nuovo colore. Fulvo? Manutenzione e cura. I bulldog francesi sono razze di cani di taglia media. Come qualsiasi altra razza, richiedono una dieta equilibrata. Può essere soggetto ad allergie alimentari e richiedere un'attenta gestione dietetica di alimenti sia commerciali che naturali. Una breve passeggiata o un gioco all'aperto con il proprietario ogni giorno dovrebbe fornire abbastanza esercizio per mantenere in forma il bulldog francese. I francesi amano praticare sport canini come l'obbedienza, l'agilità e i rally. Tuttavia, essendo una razza dalla faccia piatta, sono inclini alla mancanza di respiro, e non dovrebbero mai sforzarsi in caso di clima caldo o umido. I bulldog francesi non tollerano bene il calore a causa della struttura brachicefalica del muso. Ad alte temperature, hanno bisogno di mezzi di raffreddamento aggiuntivi, condizionatore d'aria, asciugamano bagnato, coperta di raffreddamento, acqua sufficiente. Anche i bulldog francesi non sono adattati al freddo, e hanno bisogno di vestiti caldi. Non destinato ad alloggi all'aperto o all'aperto. I bulldog francesi hanno una predilezione per alcuni problemi di salute che i proprietari possono cercare di evitare con le cure adeguate. Innanzitutto, i bulldog francesi non hanno un forte bisogno di esercizio, ma richiedono passeggiate quotidiane. Poiché i bulldog francesi sono classificati come cani dalla faccia piatta, dovrebbe essere evitato un esercizio vigoroso che causa una respirazione pesante nell'animale. Questa regola è particolarmente importante da osservare quando fa caldo. Si consiglia di pesare il cane e osservare i cambiamenti nell'aspetto dell'animale al fine di rilevare e risolvere in tempo un possibile problema di obesità. I bulldog francesi sono a pelo corto e richiedono una toilettatura solo durante i periodi di muta. La piega cutanea del viso deve essere monitorata, deve essere mantenuta pulita e asciutta per evitare l'accumulo di umidità e dermatiti. Come la maggior parte dei cani, i bulldog francesi hanno bisogno di lavarsi di tanto in tanto, ma la spazzolatura dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte del tempo per distribuire uniformemente l'olio per capelli sul mantello e mantenerne la lucentezza naturale. Salute. La KC raccomanda ai bulldog francesi di sottoporsi a uno screening sanitario per la displasia dell'anca, una valutazione della vista del cane, e un esame cardiaco, poiché i bulldog francesi possono avere problemi di salute in queste aree. Prezzo e come acquistare correttamente. Il prezzo di un bulldog francese varia in base alla sua origine, età e sesso. I cuccioli di bulldog francese costano tra 1000 dollari e 2000 dollari. Le linee di sangue più pure possono vendere fino a 3000 dollari. Il budget mensile per la toilettatura del cane, varierà da 300 dollari a 400 dollari per soddisfare le esigenze del bulldog, quando sceglie una dieta premium. Linea di fondo. Il Boredogue franchise è originariamente un cane da compagnia, allegro, affettuoso e sorprendentemente intelligente. In accordo con la classificazione delle razze adottata dalla FCI, appartiene al nono gruppo, cani da compagnia per protezione e divertimento, tuttavia è un sottogruppo di cani da combattimento di piccolo formato. Un amico piccolo, divertente e devoto, allo stesso tempo un uomo forte e muscoloso, in cui il sangue degli antenati combattenti si manifesta spesso in modo abbastanza brillante al momento di un combattimento, o quando si difende il proprietario. Il Boredogue franchise è un cane determinato. Molto obbediente e ama con piacere il proprietario. Boredogue franchise è un amico devoto e il preferito di tutti in famiglia. Ha uno spiccato senso dell'umorismo, è intelligente e si adatta facilmente alla vita sia in città che in campagna. Questo è il più sano dei Bulldog, poiché non soffre di mancanza di respiro, come il Boston Terrier, e il Bulldog inglese. Hai bisogno di passeggiate brevi e regolari, e la capacità di correre senza guinzaglio. Tuttavia, non sovraocaricare il cane con le passeggiate, quando fa caldo e non surriscaldarlo al sole, poiché i Bulldog francesi non tollerano bene il caldo. Per evitare dermatite da pannolino, è necessario lubrificare le pieghe del viso con naftalina o un guento di zinco.